Adesso parliamo di migrazione, delle politiche in atto da parte del Governo per cercare di contenere le partenze e della volontà del Governo italiano stesso di distribuire gli arrivi un po' su tutto il territorio nazionale. Oggi il Ministro dell'Interno Piantedosi è in Calabria. Il tema migranti continua ad essere in primo piano. Il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi è nella Locrida in Calabria, una delle aree dove si indirizza maggiormente il flusso degli sbarchi. Il titolare del Viminale ha incontrato i sindaci e visitato una tensostruttura nel porto di Roccella Ionica, gestita dalla Croce Rossa, Protezioni Civile e Medici Senza Frontiere. Qui dall'inizio del 2023 sono state accolte più di 2.000 persone soccorse nel Mar Ionio e partite soprattutto dalla Turchia, una rotta sempre più frequentata. Il Ministero dell'Interno per questo ha previsto interventi di ristrutturazione nel centro di Roccella che negli ultimi tre anni ha dovuto fronteggiare 150 sbarchi. Lavoriamo per ristrutturare al meglio l'accoglienza, detto Piantedosi, alla ricerca di nuove soluzioni per affrontare anche le fasi più acute dell'immigrazione. Il piano del Viminale è aumentare gli hotspot in Calabria, piccole e agili strutture per distribuire i migranti sul territorio. Al tempo stesso sono state avviate politiche di contenimento degli arrivi, prosegue il Ministro, in accordo con i paesi da cui partono, in primo luogo Tunisia e Libia. Il Viminale in generale vuole alleggerire la pressione che si concentra sulle coste siciliane e calabresi, anche per questo alle navi delle ONG vengono indicati come porti sicuri strutture lontane dalle aree di salvataggio. Questione al centro di aspre polemiche con le organizzazioni di volontari. La Geo Barents di Medici Senza Frontiere, con i suoi 600 migranti salvati a largo della Sicilia, ha da poco attraccato a Bari dopo cinque giorni di navigazione. La nave Humanity One ha fatto sbarcare nel porto di Livoro una settantina di migranti recuperati a largo della Libia venerdì scorso.